Amici sportivi ben ritrovati da Federico Dragona, buonasera, parliamo di Marsala FC Savoia, andiamo all'editoriale del post partita, una partita davvero senza storia, il Savoia ha fatto quello che ha voluto, ma andiamo alla cronaca della partita. Inizia il Marsala a battere la palla, al minuto 4 subito occasione per il Savoia, ma la palla esce al lato del portiere russo, prima occasione della partita, poi andiamo al minuto, no no ancora il Savoia, questa volta la palla esce fuori alta sulla traversa, Poi si rivede nuovamente il Savoia, il Marsala in tificortà, al ventinovesimo minuto, su una mischia in area di rigore, su un corner, la formazione ospite trova il vantaggio. Dunque cambia il vantaggio al Nino Badangotta, Savoia in vantaggio, da quel momento il Marsala non riesce più a reagire e cercare il gol del pareggio. 43 minuti nel primo tempo si vede un tiro ancora del Savoia, ma la palla ancora fuori, un minuto di recupero del primo tempo nella ripesa. Non cambia nulla il vantaggio della formazione ospite, diciamo al terzo minuto Marsala vicino al pareggio, ma la palla manna un difensore ospite, manna la palla in angolo. Poi al ventitresimo si trova ancora il Savoia, ma nulla di fatto. Poi al trentacinquesimo del secondo tempo, diciamo su una distrazione difensiva, il Savoia raddoppia per 0-2 e la sconfitta è sempre più vicina per il Marsala. Poi da quel momento in voi il Savoia fa girare la palla al centrocampo, ma nulla di fatto. Dopo appena sei minuti di recupero la partita finisce sullo 0-2, FC Marsala-Savoia 0-2, tra i fischi del Nino Badangotta nei confronti della squadra. Dunque, l'ennesima sconfitta, l'ennesimo risultato negativo che fa preoccupare ai sintonitori marsalesi che la salvezza adesso diventa sempre più dura perché gli avversari si allontanano nella zona pe-out. E il Marsala in questo momento, se finisse il campionato, farebbe i pe-out fuori il prossimo impegno degli libertani di Terranova. Sarà domenica prossima al Tumparello 10 Reale contro la formazione di Peppe Pagana.